Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Buongiorno a tutti, siamo presso l'associazione Voghera E perché il 7 giugno alle ore 21 presso il giardino delle idee di via Felice Cavallotti 16 che è quello che vedete proprio alle nostre spalle si terrà uno spettacolo intitolato Tra il Sacro e il Propano, The Best Of organizzato dalla compagnia Under Teatro abbiamo qua proprio tre rappresentanti Giulia, Erika e Alberto, buongiorno ragazzi, benvenuti Grazie Allora, la prima cosa che mi viene da chiedervi è di raccontarci un pochino di che cosa si tratta insomma questo spettacolo con questo titolo così particolare Allora, questo spettacolo nasce da un'iniziativa appunto della compagnia ovvero una mini rassegna di serate comiche noi abbiamo fatto tre serate comiche monotematiche presso Codevilla e poi abbiamo deciso di riproporre queste serate facendo un best of quindi abbiamo selezionato gli sketch migliori e le letture migliori da riproporre appunto in una serata che racchiude un po' tutto quindi sarà appunto una serata di comicità, divertimento che va dal surreale al dissacrante è appunto una cosa di sketch e letture divertenti Quindi può piacere a tutti, insomma, invitiamo chiunque Assolutamente può piacere a tutti, sicuramente Tra l'altro specifichiamo che l'ingresso ad offerta la compagnia Under Teatro già da qualche tempo insomma ovviamente porta in giro per Voghera e non solo la propria attività come nasce questa compagnia? Allora, gli Under Teatro nascono nel 2013 quando un gruppo di ex alunni del liceo Galilei di Voghera e la sezione classica Severino Grattoni non contenta del corso facoltativo, diciamo, extracurricolare di teatro decide di continuare questa avventura, questo passatempo, questa passione ricontatta il nostro maestro e regista che è Bruno Cavanna e abbiamo fondato questa compagnia appunto e nel 2016 siamo diventati anche associazione culturale abbiamo fondato l'associazione culturale d'arte varia Quali soddisfazioni state ottenendo, insomma? Eh, allora, diciamo che stiamo riuscendo a farci conoscere pian piano nel territorio abbiamo già messo in scena un po' di spettacoli di vario genere e pian piano stiamo riuscendo ad attrarre sempre un po' più pubblico e farci conoscere un po' di più, ecco Io so che tu sei quello più appassionato di regia, è corretto? Sì, 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 sto studiando regia al Dams a Bologna Ecco, come ci si avvicina da giovanissimi al mondo del teatro al mondo della regia teatrale? E non solo, immagino? Beh, più che altro iniziandola a frequentare per curiosità perché è un ambiente molto bello, vario ti dà molte opportunità, che se ne possa dire in generale e soprattutto dà molte, molte, molte soddisfazioni quindi io invito chiunque a fare parte di questo stupendo mondo del teatro di prosa Tutto perché credi che il teatro e la regia teatrale possa regalare che cosa? Le persone, i ragazzi e i più giovani? Beh, un'emozione tangibile, istantanea non attraverso uno schermo come può essere il cinema ma vedendo proprio persone in carne e ossa che si immedesimano in personaggi che non hanno tempo Insomma, gli attori spesso dicono il bello del teatro è che senti la gente tossire, starnutire applaudire ovviamente immediatamente quindi immagino che sia anche quella una bella emozione Il comico, anzi, fa tanto la risata del pubblico dà proprio una carica, quindi aiuta tanti in questo senso Perfetto, allora io direi che abbiamo raccontato e anticipato qualcosina ma naturalmente vi invitiamo a venire a scoprire di più su questo spettacolo il 7 giugno alle ore 21 in via Felice Cavallotti 16 presso il Giardino delle Idee Grazie mille, complimenti ragazzi Ci troviamo con la professoressa Mauro Aghezzi dell'associazione Vogherae Lo spettacolo tra l'altro è ideato dalla compagnia teatrale Under Teatro come mai la scelta da parte di Vogherae di collaborare con questa compagnia? Diciamo che in generale il teatro è molto importante e in questi anni non è stato molto sostenuto in generale però l'associazione crede soprattutto nei giovani che si accostano al teatro, che hanno passione per il teatro perché quando i giovani si accostano al teatro per me che è un po' la deformazione dell'insegnante significa che comunque la scuola e la famiglia hanno portato i giovani ad appassionarsi al teatro alle arti in generale quindi arte, musica, spettacolo, letteratura si registra sempre un dato positivo quando i giovani si cimentano in qualche espressione artistica quindi l'associazione Vogherae vuole sostenere i giovani e l'under teatro ha una certa continuità nel lavoro teatrale e poi c'è questo regista molto valido che è il signor Cavanna che da anni lavora nella scuola e anche fuori dalla scuola proprio con i giovani Alla prossima